E che mi dici della Shipley? Ecco, è proprio questo il motivo per cui sono venuta. Allora, io ho controllato la cassetta della posta ogni giorno, sperando di ricevere una lettera da loro, o sperando di non riceverla, e poi sono andata a vedere la posta due giorni fa e d'era lì. Me la sono portata dietro aspettando il momento per venire a trovarti. Luis! Dove è il mio primo lettere? Luis! Eccolo! Io ora apro, e tu leggi, eh? Apro e tu... Leggi! Leggila! Leggila! Gentile signorina Owens, avendo valutato la sua domanda, considerato quanto da lei dichiarato nel modulo d'ammissione riguardo la sua insolita precedente formazione artistica, la Shipley Academy è lieta, è lieta, è lieta di invitarla all'audizione per l'ammissione al prossimo anno accademico. E pertanto, convocata presso l'Accademia Shipley, il giorno 29 maggio alle ore 10, dovrà preparare una solo della durata di tre minuti, che ritiene la presenti al meglio nei suoi doti e abilità artistica. Ce l'hai fatta? Bello, bello, bello! Se è ormai tutta mia vita, prendi meglio tutta l'opportunità, so chi posso essere. o bene gente, voi mi arba ci! Facciamo l'applauso, per l'annacina, Ale! Grazie! Grazie! I'm going on a manhunt, turning around Women have been hunting, now we're hunting round Yeah, manhunt, we all got the meat The one that's been waiting is taking the lead She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before